Allora, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Birth, un film di Yi Jung Yu, io spero di pronunciarlo correttamente, che abbiamo il piacere qui di accogliere, è regista, sceneggiatrice, il film è stato selezionato alla 41esima edizione del Festival in concorso internazionale lungometraggi ed è qui un'anteprima italiana, è una produzione sudcoreana, ha avuto la sua prima alla 27esima edizione del Festival di Busan in Corea, dove ha ottenuto il Citizen Critics come premio, premio cittadino della critica, ha poi partecipato alla 48esima edizione del Festival indipendente di Seoul e la sua prima internazionale è stata al Festival di Carlo Vivari nel giugno del 23 adesso, dove ha vinto il premio della sezione Proxima Competition, poi ha partecipato ad altri festival ed è stato inserito a Parigi in novembre nella diciottesima edizione del Festival del Cinema Coreano. Io le faccio qualche breve domanda, poi passo la parola al pubblico, volevo sapere se questa è una storia, se lei si è ispirata a dei fatti accaduti nella sua vita per scrivere questo film e in questo caso come si è svolto il lavoro di riscrittura, cioè di finzione rispetto alla vita reale, se è stato un lavoro complesso, lungo, se lei ha richiesto molto da ampo. Grazie mille Intanto vi chiedo veramente scusa per il ritardo Perdonatemi, mi sono persa nelle vie di Torino Grazie mille 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 e dopo che ho fatto? Sì, è stato un film che è stato molto mi scusato, che mi sono state guardate, e abbiamo come un filmato. Quindi, in questo momento, che ci sono le scusate di scusate, e, dopo il giorno, in questa scusate, che ci sono i filmati, e che dopo il gioco, Il film si basa sulle mie esperienze personali, chiaramente non ho avuto esperienze di gravidanza, di parto, ma comunque ho cercato di fondere quelle che sono le mie esperienze personali all'interno di questa narrazione e nella finzione. La parte più importante era di riuscire a interpretare, a far interpretare il personaggio di Jay, i cui vari aspetti rispecchiano molto i miei pensieri. La parte più importante è stata quella di riuscire a valutare davvero oggettivamente quanto io conosca di quel personaggio Jay, perché quando si è troppo coinvolti emotivamente poi diventa anche quasi un racconto che perde una finalità rivolta verso l'esterno. E quindi per me è stato importante porre anche una certa distanza e quindi riuscire ad elaborare il film essendo emotivamente coinvolta il giusto. Per quanto riguarda le tempistiche ho scritto la sceneggiatura in due anni, le riprese sono state fatte in 19 giorni e poi sei mesi di post-produzione. La storia è molto coinvolgente ed è bella perché ha un tempo molto lungo. Lei ha preso il tempo per narrare l'involuzione passo dopo passo di questa coppia e volevo sapere se c'erano dei registi a cui si era ispirata per realizzare questo largo respiro di narrazione. La storia è una storia di narrazione. è stato fatto che sia una persona che ha bisogno di essere una persona che ha bisogno di essere molto più rilanciato. C'è una cosa che è iniziata a cui s'occhia, la cosa che ha bisogno è molto curioso. È stato molto felice per la reazione, perché il tempo che è stato in grado di reazione, Réning time è molto lungo, per quanto riguarda il soggetto per il soggetto, ma come dicevole, in questo film è molto molto semplice, con il soggetto il soggetto il soggetto e il soggetto, per il soggetto il soggetto è diverso. Il soggetto il soggetto il soggetto il soggetto il soggetto per il soggetto. ... 창작하기 시작하면 시나리오 단계부터 들어가게 되면 많은 레퍼런스를 특히 영화를 보지 않습니다 대신에 사진을 본다던가 음악을 듣는다던가 그 외에 매체의 예술을 접하면서 영감을 받고 오히려 영화를 다른 감독이나 거장의 영화를 보는 것을 조금 경계하고 그것을 두려워합니다 왜냐하면 이미 영향을 받았을 것이기 때문입니다 그 전에 하지만 이 영화를 만들면서 들었던 영화 OST는 있습니다 Sam Anderson 감독의 Revolutionary Road의 OST를 계속 들었고 이 영화의 mood가 완성이 되었을 때 관객들에게 그 Revolutionary Road 같은 느낌이 났으면 좋겠다는 생각은 했었습니다 전국의 영화의 Per quanto riguarda il running time del film, diciamo che anche da parte della distribuzione c'era timore che potesse essere un tempo troppo lungo per raccontare la storia di questa coppia che inizialmente è serena però poi si vede ciascuno il proprio sogno frantumato a causa di desideri molto divergenti tra di loro. Quindi l'idea, si era valutato anche l'idea di diminuire il running time e nel racconto di questa vita di coppia potrete notare che all'inizio sono entrambi all'interno della stessa scena mentre quando arriva la gravidanza di lei sono molto di più le scene in cui ognuno è all'interno della scena separata dall'altra persona. Quindi volevo proprio mostrare queste due vite in parallelo a partire da quell'evento inaspettato della gravidanza. E quindi sì abbiamo anche valutato di diminuire il running time ma in realtà proprio per riuscire a interpretare e a comunicare al meglio l'involuzione della coppia ho pensato che non si potesse ridurre ulteriormente. Per quanto riguarda l'ispirazione di registi da quando in realtà comincio a scrivere la sceneggiatura cerco di non far riferimento ad alcun regista piuttosto mi appoggio alle fotografie, alla musica in cerca di ispirazione. Diciamo che sono molto scettica e anche timorosa di guardare ai registi magari anche a dei grandi registi perché già sono molto influenzata dalle loro opere quindi in queste fasi di creazione tendo ad allontanarmi da questi tipi di riferimento. C'è però una colonna sonora quindi sono appoggiata molto per ispirazione a questo film ed è il Revolutionary Road di Sam Anderson. Grazie, ci sono domande? Buongiorno Davide Gravina, Cinedamse. Innanzitutto complimenti per il film perché l'ho visto ieri e mi ha colpito molto. Io avrei due domande. La prima, come è stato il rapporto con gli attori protagonisti? Se hanno avuto modo di improvvisare oppure sono stati molto aderenti rispetto alla sceneggiatura? La seconda invece è più una curiosità, il cubo di Rubik nero che Giai continua a maneggiare tra le mani. Come le è venuta in mente quest'idea? Se rappresenta qualcosa? Che tipo di metafora è? Grazie. Grazie a tutti. 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 Voi raggiungi, vorrei diretti al centro di raggiungo della città della città della città, e questo è un giocco di giocco di giocco, che è stato il giocco di Gio e Gio, che con lui ha chacuto, per loro si stanno a parlando di pull shot. La città della città è una espressione di giocco di giocco, 첫 번째 테이크에서 그들의 롱테이크로 가기로 하고 그들의 연기를 끊지 않고 호흡을 끊지 않고 보았을 때 굉장히 숨이 멎을 것 같은 저뿐만 아니라 모든 스텝들이 공기를 느꼈기 때문에 두 번째 테이크에 갈 때는 시나리오 대본에 있는 대사를 그대로 가지만 너희가 추가해서 더욱더 자유롭게 해봐라 라고 했던 즉흥적인 쇼트가 그 부분입니다. 그리고 제이가 만지는 블랙 큐브는 제가 평소에 이걸 가지고 불안할 때 손을 가만히 있지를 못해서 늘 이런 불안감을 해소하는 장난감 같은 것들을 어른들을 위한 장난감 같은 것들을 늘 책상 위에 두는데요. 아마 제이의 영화 속에 구현된 책상은 아마 제 책상을 방에서 그대로 떼왔다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 이 큐브는 제이가 불안할 때마다 만지작거리는 어떤 소품이고 소도구이고 미장센으로서 이 큐브는 맞추어도 맞출 필요가 없는 모두가 모든 면이 검은색인 큐브이기 때문에 만지는 행위, 동작의 의미가 있고 그리고 이것이 행위로 드러나는 것이 불안하다는 제이의 캐릭터를 드러내는 동시에 이 색깔을 정하는 데 있어서 미술적인 부분에서 이 검은색이 마치 블랙홀이나 아주 검은 어떤 불안의 덩어리처럼 검은 덩어리처럼 제이의 아주 불안한 마음을 표현하고 싶었던 색깔이 블랙이었던 것 같습니다. 감사합니다. 감사합니다. Quando incontro i vari attori ovviamente ogni attore ha un proprio carattere, una propria voce, un proprio modo di recitare quindi generalmente una volta che la sceneggiatura è pronta dopo l'incontro degli attori viene in qualche modo perfezionata e completata diciamo che in questo film non è successo questo, è stato tutto abbastanza fedele alla sceneggiatura iniziale anche perché è un'opera autobiografica e si basa su rapporti ed esperienze che effettivamente ho vissuto e che ho voluto riproporre al pubblico in maniera molto fedele e quindi non sono state fatte, anzi poi sono arrivata a fare anche molte modifiche al copione quindi nel momento in cui l'ho proposto agli attori in realtà in qualche modo era già completo quindi a meno di indicazioni, di un modo di comunicare, di recitare con una certa voce o il modo di emettere certi suoni diciamo che ho cercato di dare delle direzioni abbastanza puntuali e fedeli rispetto alla sceneggiatura iniziale diciamo che anche l'unica scena che è stata girata in maniera spontanea è la scena che ritrae Jay e Konu dopo che ritornano dall'hotel ed è stato tutto il loro dialogo è stato ripreso in un'unica volta e già al primo take era quasi come se ci lasciasse senza fiato non solo a me ma a tutto lo staff che stava respirando quell'aria di intensità tra loro due e quando ho fatto il secondo take di quella scena ho semplicemente detto a loro di improvvisare e di fare come a loro veniva quindi forse l'unica parte improvvisata direi che è stata quella scena e per quanto riguarda il cubo che Jay tiene in mano è un'abitudine che io stessa ho quando ho dei momenti di ansia e diciamo che anche quella scrivania di Jay non è un'esagerazione direi che è quasi come se avessero trasportato la mia scrivania dalla mia stanza nelle scene e quindi così come me anche Jay utilizza, tiene questo cubo in mano nei momenti di ansia e quindi in qualche modo come avrete visto tutti i lati di questo cubo sono neri di colore nero quindi in realtà non c'è nessun gioco non c'è nulla da risolvere e quindi si tratta solo qualcosa di estremamente comportamentale gestuale e anche nella scelta del color nero in qualche modo ho voluto fare questa selezione diciamo questa selezione artistica per interpretare in qualche modo il buco nero o questa grande ansia che Jay prova abbiamo dieci secondi per un'altra domanda se c'è mi spiace ma dobbiamo chiudere un po' grazie per aver condiviso il suo lavoro con noi bocca al lupo e buon feste grazie a tutti innanzitutto sono molto ancora molto dispiaciuta per il mio ritardo in realtà ero molto emozionata di questo incontro con i giornalisti ma purtroppo è successo quello che non doveva succedere quindi veramente sono desolata e comunque voglio ringraziarvi tutti per essere comunque rimasti ad ascoltarmi e per chi non avesse ancora visto il film vi invito vivamente a guardarlo grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te